Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con il letti G serale della domenica e siamo chiaramente in diretta su Icaro TV e Icaro Play e partiamo subito perché ci facciamo come sempre aiutare dal nostro sito newsrimini.it andiamo a recuperare una notizia che troviamo proprio nella nostra home page relativa ad alcune dichiarazioni del sindaco di Rimini Jamilsa de Golvad. Ecomondo ha reso lampante la priorità del prolungamento del metromare dalla stazione di Rimini alla Fiera. Questo afferma il sindaco a conclusione della 25esima edizione della Kermesse che ha avuto numeri importanti di presenze ma anche forti e ricadute sul traffico. Abbiamo l'ok del ministero al tracciato dice ancora il sindaco, abbiamo i finanziamenti del PNRR e siamo nella fase di definizione del progetto per un servizio indispensabile per migliorare i collegamenti verso il quartiere espositive e soprattutto alleggerire le nostre strade dal traffico delle auto. Ecomondo che ha chiuso i battenti venerdì ha visto un più 41% di presenze rispetto al 2021 e una crescita quasi del 20% rispetto all'edizione da record del 2019, l'ultima prima della pandemia. Numeri, spiega ancora il sindaco, che da soli bastano a confermare come la manifestazione riminese sia diventato un punto di riferimento internazionale per tutti i temi legati all'economia circolare. E testimoniano ancora una volta di come la fiera continua a rappresentare una fondamentale locomotiva, se non la principale, verso una reale destagionalizzazione del turismo. In questi giorni alberghi e ristoranti del territorio hanno lavorato a pieno ritmo con riflessi importanti sull'indotto e sull'occupazione in un periodo dell'anno generalmente scarico. Dalla notizia che abbiamo letto in apertura relativa proprio ad Ecomondo continuiamo a parlare di economia, in modo particolare parliamo di esportazioni agroalimentari nel riminese. Sei mesi di grande crescita, quelli che ci lasciamo alle spalle lo evidenziano i dati resi noti dalla Camera di Commercio, anche se il dato va correttamente contestualizzato. Vediamo. Nei primi sei mesi 2022 il comparto agroalimentare della provincia di Rimini, che tocca produzione agricole e industria alimentare, ha visto le esportazioni raggiungere i 167 milioni di euro, con un aumento di ben il 40,6% a fronte del più 16,3% delle milie romagne e del più 18,7% italiano. Un incremento sicuramente rilevante, anche se bisogna tener conto del fatto che si tratta di una crescita nominale sulla quale va calcolato l'impatto dell'inflazione. Inoltre l'analisi deve tener conto della parzialità del dato relativo al periodo gennaio-giugno e della stagionalità di alcuni prodotti. L'export agroalimentari riminese costituisce comunque l'11,5% del totale provinciale, con un'incidenza lievemente inferiore a quella regionale, ma superiore a quella nazionale. In attesa dei numeri a consuntivo dell'anno in corso, intanto l'agroalimentare manda agli archivi un 2021 con una crescita a Rimini in doppia cifra, più 10% per l'export, anche se 5 punti al di sotto dell'aumento registrato in tutta l'Emilia-Romagna. La torta delle esportazioni riminesi vede quasi appaiati prodotti alimentari, come piatti e pasti preparati, che pesano il 34%, e le bevande, vino su tutte, che incidono per il 30%. C'è poi un 14,5% di export legato al pesce e un 5,6% ai mangimi per animali. Gli Stati Uniti sono per distacco il principale paese di destinazione, 25,1%, seguiti ad ampia distanza da Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Il settore, commenta il presidente della Camera di Commercio, Carlo Battistini, sta registrando un trend di crescita storico. Anche nei nostri territori i numeri sono positivi e i risultati dimostrano la qualità dei prodotti che le imprese sanno portare sui mercati internazionali. E sicuramente solo un aspetto economicamente importante, anche le fiere d'autunno per i nostri territori si va a concludere proprio questa sera a Sant'Arcangelo l'antica Fiera di San Martino. Tradizioni romagnole, voglia di comunità, le protagoniste di questo fine settimana. Pieno di visitatori per la Fiera di San Martino a Sant'Arcangelo, che ha finalmente segnato il ritorno alla normalità. Iniziata venerdì, la fiera è proseguita fino ad oggi con diverse proposte di divertimento e intrattenimento. L'odore di piada, salsicce e cipolla, ma anche di calda arroste ha riempito l'aria del sapore della festa d'autunno. Oltre 380 gli stand degli espositori fieristici che hanno riempito con le loro bancarelle Piazza Ganganelle le vie del centro storico. La grande protagonista dell'ultima giornata è stata la piada, con la ventitresima edizione del Palio a lei dedicato. Tra i 37 iscritti, di cui 11 uomini e 26 donne, si è imposta la Santa Arcangiolese Silvia Clari. Primo tra i giovani, Salvatore Truina, mentre per la gara a zone ha vinto la sanvitese Antonella Cecchi. Dopo il successo dello scorso anno, la Proloquo ha riproposto anche il premio Lapida di Beck, la piada più buona e tipica prodotta dai migliori piadaioli professionisti della città. La giuria, composta da 5 giudici, nei giorni scorsi ha assaggiato in incognito la piada di tutti i partecipanti e ha scelto la Bottega 50, a cui è stato consegnato il sigillo da imprimere sulle piadine per tutto il prossimo anno, col simbolo di San Martino, le corna. Immancabile per i visitatori della fiera proprio il passaggio sotto l'arco dove sono appese le tradizionali corna, con la speranza che il vento e le correnti d'aria non tirassero brutti scherzi. Vabbè, questa è sempre la speranza. A proposito di altri appuntamenti importanti, tra poco ci spostiamo a Riccione, se non però prima di segnalare il fatto che ci sono stati anche grossi problemi sulla viabilità e sui parcheggi proprio in quel di Sant'Arcangelo, segnalazioni sono arrivate da diversi cittadini e quindi nonostante fossero state anche attivate delle navette, il gran numero delle persone ha reso complicato, in modo particolare nelle zone residenziali e ai Sant'Arcangelesi la possibilità di muoversi in queste giornate di festa. Dicevamo, andiamo a Riccione per un altro appuntamento che troviamo anche sul nostro sito newsrimini.it, un evento suggestivo tra storie e futuro, quello proposto dal gruppo Festi a Riccione in occasione proprio del patrono San Martino e per celebrare il centenario. Oggi è stato annunciato che in ottica maggiormente turistica gli spettacoli saranno riproposti anche in un weekend della prossima primavera. Vediamo. Le radici che affondano nella sabbia il domani di una Green City. Visioni di futuro, lo spettacolo di Festi Group ha animato il fine settimana del patrono a Riccione. Tra i piazzali Roma e Ceccarini con una parata ad unire i due luoghi si sono mossi ballerini, acrobati, scenografie luminose. Cinque performance con artisti locali hanno messi in scena la forza delle donne rimaste sole durante la Grande Guerra, le origini del turismo con i bambini arrivati nelle colonie, mentre un carosello di immagini ha raccontato la storia dei bagnini riccionesi. Sabato sera il gran finale con la visione del futuro per la città. Una bellezza che va oltre, nel senso che ha davvero toccato il cuore e la mente di tutti noi. Quindi ci siamo molto emozionati e abbiamo partecipato a questo spettacolo che è risultato qualcosa di più di uno spettacolo, una rievocazione che ci ha fatto rivivere un tempo e un momento della nostra storia in cui davvero, in questo caso specifico, le donne riccionesi hanno dato prova di grande solidarietà. Direi che spettacoli come questi siano quello che noi cerchiamo, raccontare la nostra storia nei periodi che hanno fatto, il nostro centenario, nei vari decenni, con le loro caratteristiche, le loro tradizioni, come lo spettacolo della tratta delle ballose che è una caratteristica proprio di Riccione, saperla raccontare però con temi e argomenti ancora attuali. Quindi questa capacità di narrazione dal passato al presente che deve accompagnare questa modalità anche il futuro della nostra città. La visione del futuro di Riccione è sicuramente quello di quella fanciulla riccionese che con una grandissima enorme gonna carica di fiori sale a sfidare gli elementi e in mezzo a una tempesta di fulmini rimane sotto una pioggia d'acqua, una copiosissima pioggia d'acqua. E quindi un futuro di lotta, di speranza e di possibilità, grandi possibilità di vincere con le cose positive, una Green City, una delle prime e forse delle più piacevoli Green City di questo paese. In prospettiva più turistica l'evento sarà riproposto in un weekend della prossima primavera riccionese senza costi aggiuntivi per l'amministrazione che con questo annuncio prova a rispondere implicitamente anche alle polemiche, soprattutto social, suscitate dal budget speso. E' stata Rimini a rappresentare l'Italia Dance for Kidness nella giornata proprio del 13 novembre dedicata in tutto il mondo alla gentilezza. Un unico messaggio per i 44 paesi che hanno aderito alla manifestazione nata 10 anni fa e per la prima volta presente oggi anche nel nostro paese. Un flash mob all'insegna della gentilezza per una giornata dedicata alla promozione dei valori legati a compassione ed empatia. L'iniziativa Dance for Kindness è di Life Vest Inside, associazione no profit che si impegna a ispirare, responsabilizzare ed educare tutte le persone a condurre una vita ricca di gesti di gentilezza. In Piazza Cavour, insieme a tanti paesi del mondo, il messaggio è partito dai ragazzi delle scuole grazie all'impegno di una riminese che ha messo insieme tante persone. Com'è andata? Direi benissimo, nel senso che la risposta c'è stata soprattutto da parte delle scuole e dei ragazzi, che è proprio quello che desideravo di più per il futuro di questo mondo, per un mondo più gentile. L'organizzazione ovviamente per fare le cose fatte bene è sempre faticosa, però veramente l'ho fatto col cuore e quindi lo rifarei cento volte. E' vero che c'erano tanti bambini, quindi c'erano anche tanti kids per i kidsness, come ho detto all'inizio, ma chiaramente la giornata era quella della kindness, cioè della gentilezza. E ora passiamo allo sport, andiamo subito nella nostra pagina sportiva di News Rimini per parlare del pareggio che ha visto nel confronto Rimini scontro la Torres. È finita 1 a 1 il servizio del nostro Roberto Bonfantini. Rimini è a caccia del riscatto il Romeo Neri dopo le due sconfitte di fila con Carrarese e Pontedera. La Torres in classifica 15 punti, 3 meno di Biancorossi ed è reduce dalla vittoria interna per 2-1 con l'Aquila Montevarchi. Gaburro ritrova Gabbianelli e Piscitella che partono dalla panchina. Resta in infermeria Mencagli, mentre lo Duca è ancora influenzato. Il primo tentativo è di Diachite in acrobazia al quinto. Pallone a lato. All'ottavo secondo angolo per i Larimini. Batte Tonelli. Deviazione vincente di Santini e Biancorossi in vantaggio. Il numero 29 di Gaburro sale a quota 9 goli in campionato. I giocatori sardi protestano per un presunto tocco di mano del bomber Biancorosso. All'undicesimo dopo il tocco di Diachite, Tofanari in anticipo ma si fa beffare da Ruocco che arriva prima sul pallone ed esterno destro lo mette sul secondo palo per campagna che Graziella rimini spedendo fuori da due passi. Al diciassettesimo Vano viene ammonito per proteste dopo un fallo su Ruocco. Al ventunesimo sugli sviluppi di un corner Averi di testa per Tonelli che pennella al centro ma l'incornata di Gigli manda la sfera tra le braccia di Salvato. Al ventiseiesimo è il primo angolo per gli ospiti. Capitano Antonelli svetta di testa ma non trova il bersaglio. Al ventottesimo il direttore di gara Madonia di Palermo mostra il secondo giallovano per questo contatto con Salvato con la bandierina dell'assistente alzata per fuorigioco dello stesso attaccante Biancorosso. Il Rimini resta in dieci. Al quarantaquattresimo Dechite anticipa Zaccani in uscita e Pietrangeli il primo ad arrivare sul pallone e a scaraventarlo in fallo laterale. Nel primo dei cinque minuti di recupero scatta il contropiede dei Rosso Blu. Masala allarga per campagna che serve Sanat, libero di prendere la mira e calciare sotto l'incrocio. È il gol dell'1-1, punteggio con il quale si va all'intervallo. Al secondo della ripresa Lombardo mette in area. Dechite contro le calci alla sfera di vieta da Pietrangeli viene bloccata da Zaccagno. Nello stesso minuto dall'altra parte del campo Tonnelli per Rosso il cui diagonale è ribattuto da Girgi secondo i giocatori di casa con una mano. Si prosegue. Al quarto il tiro di Sanat è sull'esterno della rete. Al dodicesimo il tiro a cross di Sanat, complice il velo involontario di Pietrangeli, costringe Zaccagno a rifugiarsi in angolo. Al quattordicesimo Scappini di testa spedisce fuori da ottima posizione. Al venticinquesimo cross di Piscitella e colpo di testa di Sereni, pallone a lato. Al minuto 36 Sanat parte da destra. Si accentra e calcia, costringendo Zaccagno la deviazione difficile in angolo. Al quarantatresimo cross di Santini da destra, salvato regale il pallone a Piscitella che tergiversa troppo permettendo al portiere ospite di riprenderselo. Finisce 1-1. Si ferma a 2 la striscia negativa di Biancorossi, 3 punti nelle ultime 5 gare di campionato. Il Rimini sa la quota 19 in classifica e mercoledì al Romeo Neri arriva il Vicenza per la Coppa Italia di Serie C. E subito al termine della partita abbiamo sentito la voce del mister del Rimini, Marco Gaburro. C'ho offerta per forza, potrei anche vincerla, andiamo a vedere. Ma il punto è un ottimo punto, se vogliamo parlare del punto, il punto è oro. Perché quando ti trovi in questa situazione qua, poi possiamo parlare tutta la vita del perché ci siamo trovati in questa situazione qua e noi non dobbiamo trovarci in situazioni del genere. Penso che ci sia stata un'interpretazione assolutamente inadeguata del regolamento, però ci siamo stati più polli anche noi nel prendere soprattutto la prima munizione dopo pochi minuti in una situazione di una partita che non aveva questo tipo di carico emotivo, secondo me, in campo in quel momento da giustificare quella cosa. Quindi per me Vanno ha sbagliato sulla prima munizione e non lo deve fare perché la società ha parlato chiaro anche in settimana su quello che deve essere l'atteggiamento in campo e su queste cose qua noi siamo molto esigenti. Questo non vuol dire che poi quello che è successo nella situazione del secondo giallo fosse assolutamente una cosa dove uno può munire. Cioè è una cosa dove, a parte che non è neanche fuori gioco, è una nazione per noi, ma non c'è stato nulla da parte di Vanno per andare a cercare il loro portiere. Cioè ha cercato di anticipare, fine. Quindi questa è stata un'interpretazione che ha rovinato una partita perché poi parliamo di un doppio giallo nel giro di un quarto d'ora, cosa che non si vede penso neanche nei campi degli allievi nazionali o dell'under 18, dell'under 17. Questo è il discorso e questo non deve succedere. Quindi noi abbiamo sbagliato delle cose e qualcun altro ne ha sbagliato delle altre. Quindi ognuno si prenderà le sue responsabilità. Noi pensiamo al nostro. Io sono arrabbiato solo per una cosa, perché i ragazzi oggi non si può dire che non abbiano stretto i denti, che non abbiano provato a fare le cose, anche se con il tempo non si sono dati per vinti. E ripeto, potevamo anche fare il gol con Piscitella alla fine, che magari premiava anche un atteggiamento del secondo tempo. La cosa che mi fa arrabbiare a me è la gestione del finale di primo tempo, perché, e l'abbiamo ovviamente detto fine di primo tempo, però la squadra che è 1-0 in un uomo in meno, in quel momento lì deve avere solo il pensiero di portare agli spogliatoi la partita. E l'avete sentita l'amarezza del mister. Dalla serie C passiamo alla serie D. Vediamo, grazie anche alla grafica della nostra sezione di Carosport del nostro sito, la sconfitta esterna della San Maurese sul campo della capoclassifica Giana Erminio, e anche la sconfitta, questa volta invece, casalinga. Una brutta sconfitta dopo una lunga striscia positiva per lo United Riccione, che perde 1-2 contro Crema. Vediamo. Inizia la tredicesima giornata di campionato di serie D, girone D, allo stadio Italo Nicoletti, dove si disputa il match fra United Riccione e Crema 1908. United Riccione, che arriva da un pareggio contro il Sandici nell'ultima disputata, è in cerca dei tre punti. Il direttore di gare è il signor Andrea Zoppi del reparto di Firenze. Allo scoccare del quarto minuto, Colombo da rimessa laterale trova Padovan, che di testa cerca Ferrara in aria, che riceve e palleggia, ma murato dalla difesa del Crema non trova la conclusione, palla respinta. Al sesto, ottimo 1-2 di Padovan e l'ordipanizza sulla tre quarti. Padovan riceve, ma la difesa del Crema respinge. Al dodicesimo, palleggia centrocampo a favore del Crema fra Gerace e Recino, che riceve e sferra il tiro, ma in porta pezzolato non si lascia spiazzare, respinge a rimessa laterale. Al ventottesimo, crossi in aria a favore del Crema, in posizione Recino colpisce di testa, la traiettoria ingannevole e la palla finisce all'angolino basso, spiazzando pezzolato. Ed è gol dell'1-0 per il Crema. Al trentacinquesimo, D'Antoni al limite dell'area del Crema passa un filtrante per Ferrara, che però, nonostante l'ottima posizione, sbaglia la mira e la palla termina alta sopra la traversa. Al quarantatresimo, Recino al limite dell'area dribble e conduce, riceve davanti alla porta United Gerace, ma Colombo salva dal rischio e respinge. Mo Viola al quarantanovesimo, su dubbio fallo di mano di Benedetti al limite dell'area, per protesta viene ammonito Ferrara, con cartellino rosso diretto, United Riccione in dieci. Si va all'intervallo con l'1-0 del Crema sullo United Riccione. Al sesto minuto della ripresa, fallo di Cerri su D'Antoni al limite dell'area, batte Benedetti, la barriera respinge, D'Antoni sulla ribattuta di nuovo respinto. All'ottavo, su corner a favore dello United, scontro fra Vavasori e Colombo, che cade in aria, e non ci sono dubbi per il direttore di gara, è calcio di rigore. Dal dischetto si prepara il capitano Benedetti, che sferra il tiro nel sette, ed è il gol del pareggio per lo United. Al dodicesimo, su palleggio del Crema sulla fascia, Tosi al limite dell'area riceve palla e sferra il tiro. Pezzolato fa i palli, ci prova, ma è gol per il Crema, di nuovo in vantaggio. Al quattordicesimo, D'Antoni intercetta palla, entra in aria sulla sinistra, il portiere esce, ma la palla arriva sulla linea del gol, non barcandola, il difensore Vavasori in aiuto salva la rete e allontana. Al ventinovesimo, ottimo giropalla dello United, nella metà campo offensiva, che termina in un 1-2 fra Panaioli e D'Antoni. Panaioli al limite dell'area tira, ma la palla termina sul fondo. Al quarantaduesimo, trova Palla Recino da fuori aria, che tira di potenza al volo, ma Pezzolato para sicuro. Finiti i cinque minuti di recupero, termina la partita con il 2-1 del Crema sullo United Riccione. Per la prossima giornata di campionato, lo United Riccione giocherà nel campo della San Maurese, mentre il Crema a 1908 duellerà con il sasso maggiore in casa. E diamo uno sguardo anche ai risultati di eccellenza, almeno quelli che ci riguardano più da vicino. Diciamo il risultato della sconfitta del Cattolica contro il Progresso per 1-4. La Savignanese pareggia in casa contro i Russi per 1-1, mentre il Tropical Coreano fa 0-0, sempre in casa contro il Football Cava Ronco. Prima di lasciare la pagina sportiva parliamo anche di Volleig, perché nel quinto turno di Volleig a due la OMAG MT vince in casa contro l'Assitec Volleyball Sant'Elia per 3-7 a 1. Dopo una partenza in salita, le ragazze di coach Barbolini riescono ad imporsi sulla squadra avversaria in una gara che così riscatta anche la sconfitta dell'ultimo turno. E prima di salutarci, uno sguardo al meteo, perché sono arrivate poco fa le previsioni di Roberto, Nanni, di Meteorobi, che quindi ci dice un po' come inizierà la settimana, o comunque anche le prossime ore, dopo le tiepide giornate dell'estate di San Martino, finalmente sembra arrivare l'autunno, come indicano le previsioni di Roberto Nanni. Il cambio di circolazione tanto attesa per mezzo di una corrente più fredda e risalita dall'Oionio porterà qualche rovescio sparso nelle prossime ore anche sulla provincia di Rimini. Quindi sperimenteremo un clima di stampo prevalentemente autunnale che riporterà le temperature in linea con i valori medi stagionali. E per la prossima settimana anche qualche criticità idrogeologica in Emilia-Romagna con una serie di perturbazioni, la prima che arriverà tra martedì e mercoledì. Noi siamo giunti in conclusione al nostro appuntamento di Icaro Tg della domenica sera. Grazie a voi tutti di averci seguito. Buona serata e anche buona settimana.